Storie di microeditoria, una produzione PodSoup per associazione L'Impronta. Io sono Gaia e collaboro con la microeditoria da una decina di anni. Mi occupo solitamente di gestire le sale, quindi verificare che i tempi vengano rispettati per i vari appuntamenti e che le persone siano comunque a loro agio, qualsiasi cosa abbiano bisogno, hanno lì una persona dello staff a cui fare riferimento. Voi dovete immaginarvi che non ero, quando ho iniziato a collaborare con la microeditoria, la trentenne che sono oggi. Ero una ragazzina di a malapena vent'anni che non sapeva bene cosa fare del proprio tempo al di là dello studio all'università e quindi quando mi hanno chiesto di collaborare con questo evento che si teneva ogni anno a Chiari, io ho accettato pensando che sarebbe stata una passeggiata, qualcosa di molto semplice, qualcosa di molto elegante in cui non avrei fatto poi questa gran fatica. Nella realtà poi ho scoperto che dietro le quinte di questo evento c'è molto di più. C'è una settimana intera di lavoro fisico, di tavoli da spostare, di mobili da portare su e giù dalle scale di marmo della Villa Mazzotti, che anche quella è un posto stupendo, bellissimo, ma il fatto che sia così ricca di storia, così ricca di arte, la rende anche molto fragile e è un posto in cui bisogna fare estremamente attenzione a qualsiasi movimento si faccia, perché qualsiasi angolo può portare a sbeccare dello stupco, si scivola, ci si fa male, queste cose non si possono, non devono succedere, quindi bisogna stare molto attenti e sudare, sudare tantissimo, pezzare magliette, portare i guanti da lavoro perché sennò ci si lasciano le unghie e altre amilità che giustamente il pubblico non vede, ma che chi collabora conosce benissimo. La rassegna della microeditoria si tiene in Villa Mazzotti a Chiari, che è una villa liberty, quindi dovete immaginare questa struttura bianca come di marmo, estremamente decorata all'esterno con queste grandi vetrate, vetrate che però sono chiuse solitamente dalle tapparelle, proprio perché la villa resta per la maggior parte del tempo sigillata, chiusa. Quando noi tutti gli anni entriamo l'ambiente è molto scuro, quindi la prima cosa in realtà che dobbiamo fare è cercare di ricordarci dove siano gli interruttori della luce e fisicamente accendere la luce. Sembra un'operazione facile, non è così facile. Dopodiché piano piano ci spostiamo nei vari depositi del materiale che si trovano o al piano superiore o nello scantinato per raccogliere i vari tavoli, le sedie e piano piano ci organizziamo in base a quello che è stato progettato per quell'anno, in base al numero di editori che si sono iscritti e che esporranno il loro materiale, in base agli appuntamenti che ci sono, quindi in base alle sale con gli ospiti che dobbiamo approntare, si organizzano toc sedie, toc tavoli, spostandoli e rispostandoli man mano perché ovviamente non funziona mai tutto al primo colpo. Poi al secondo giro si cominciano a mettere le tovaglie, al terzo giro ci si ricorda esattamente qual editore va dove e si appunta il nome dell'editore su ogni tavolo in maniera che quando arrivano sanno esattamente dove posizionarsi. Alla fine di due giorni più o meno di lavoro e di travaglio, Villa Mazzotti è stata prontata per essere riempita di libri e di persone. Villa Mazzotti vuota è un pochino cupa proprio perché essendo un edificio vecchio, un edificio che tutti immagini che quando è stato costruito dal suo proprietario dovesse essere una villa in cui vivere non era un monumento, era una casa. Quindi vederla così vuota e così che col tempo comunque decade è un po' triste. Nel momento che si riempie di persone tutti quelli che sono i piccoli difetti, quindi il pavimento che si è un po' graffiato negli anni, la colonna che si è leggermente sbeccata, spariscono perché è talmente bello vedere la villa viva che qualsiasi altro difetto passa in secondo piano. Un aneddoto soltanto sulla microeditoria. Allora nel 2015 il tema della microeditoria era stato l'alimentazione perché era l'anno dell'expo, quindi ci eravamo accodati e io ero responsabile di una stanza, nello specifico delle scuderie che sono una specie di piccolo distaccamento. Mentre la villa è maestosa, è bellissima, poi c'è un piccolo angolino un po' lontano, nascosto da delle siepi che nessuno trova mai e che infatti uno dei miei compiti principali era di ricordare alla gente, ehi là siamo qua vi prego venite! Quell'anno invece in particolare non ho dovuto portare nessuno alle scuderie con me a vedere gli incontri perché alle scuderie si teneva il pomeriggio vegano. Quindi era stato organizzato un'intera giornata di incontri, racconti, c'era il poeta vegano. Da un lato è stato bellissimo, dall'altro nell'unico momento in cui mi sono distratta e mi sono concessa di tornare al corpo centrale perché dopo tante ore di discorso più o meno simile ritenevo di aver sentito tutto quello che potevo sentire, di potermi allontanare senza che ci fossero pericoli. Invece quando sono tornata ho scoperto che una signora si era presentata con una pelliccia e lascio solo immaginare cosa succede quando una donna con la pelliccia incontra persone animaliste e vegane che la circondano. Per quella che è la mia esperienza, se dovessi identificare due persone che per me sono la microeditoria sono Daniela Mena e Paolo Festa perché sono quelle due persone che non solo ricoprono due ruoli preeminenti all'interno dell'associazione L'Impronta che è poi l'associazione che organizza la rassegna della microeditoria sono uno il presidente, l'altra la direttrice artistica ma sono anche due persone che si impegnano veramente fino dal giorno zero fino alla fine della rassegna sono perennemente in prima fila, sempre presenti, qualsiasi dubbio hanno una risposta qualsiasi cosa ci sia da fare la fanno che sia sporcarsi le mani, spostare i tavoli oppure andare a prendere la macchina, andare a prendere l'ospite appena arrivato alla stazione oppure dover sopperire alla mancanza di qualcuno e prestarsi come jolly quindi proprio fisicamente fare il tappabuchi qualcosa che tu ti aspetteresti dovrebbe fare lo stagista di turno diciamo e invece tu ti trovi il presidente che si mette lì e fa qualsiasi piccolo compito sia necessario e è straordinario da un certo punto di vista perché tutti e due sono persone molto eleganti Daniela soprattutto è una persona molto fine sia nel vestire sia nel muoversi sempre molto elegante, pettinata, precisa ha un aspetto estremamente pulito è qualcuno che tu ti aspetteresti che certo arriva durante la rassegna sempre vestita benissimo l'ultimo anno aveva un corsetto bianco con una striscia di brillantini blu che mi è rimasto nel cuore perché era stupendo però tu non ti aspetteresti di vederla anche coi tacchi e il vestito bello a spostare all'ultimo minuto uno schermo televisore perché quello che c'era prima nella sala ha smesso di funzionare e invece lo fa e corre con i tacchi su e giù dalle scale quindi tu senti questo tac 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 e non stai neanche a pensare chissà cos'è perché lo sai che è Daniela che sta correndo su e giù e la stessa cosa la fa Paolo che tu ti aspetteresti dovrebbe stare lì tranquillo all'ingresso giusto a fare il ruolo presidenziale che dovrebbe avere e invece non lo trovi mai all'ingresso perché è perennemente da qualche altra parte tu lo cerchi e lui non c'è ma non perché è a chiacchierare è perché lo vogliono tutti lo cercano tutti è come il bello dalle belle ciglia che tutti lo vogliono nessuno lo piglia alla fine dell'evento la villa si svuota e anche se lascia un leggero strascico di tristezza proprio perché la villa vuota da questo senso di spreco è uno spazio stupendo che andrebbe lasciato in vita tutti i giorni dell'anno ma dall'altra parte è un sollievo immenso perché la microeditoria la rassegna della microeditoria è un evento bellissimo in cui la gente si impegna perché ha passione nell'impegnarsi in quello ma è anche sfiancante è proprio davvero faticoso a livello mentale a livello fisico quindi finita l'ultima sera quando si comincia a sbaraccare letteralmente a portare via le cose c'è un sollievo una gioia di averla portata a casa ancora per un anno che è veramente non dico forse il momento più bello della rassegna ma ci va vicino grazie a tutti grazie a tutti